Allora, dietro, mi ricordo andiamo con il posto, la postura entra a 7, la sinistra, si mantiene a 1, si mantiene a 2, la presso a 3, cambio a 5, la presso a 7, la presso a 7, mantengo 1, 2, la presso a 3, cambio 5, 6, 7, avanti e fuori, 2, 3, e 5, 6, la seconda, 1, 2, 3, 5, 7, 7, 1, 2, 3, 5, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, la voletta, 5, 7, 1, 2 e 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 5,6,7, 1,2,3, 5,6,7, 1,2,3 5,6,7, 1,2,3, 5,6,7, 1,2,3, 5,6,7, 1,2,3